Io veramente ci tengo a farvi i complimenti perché noi di video li abbiamo visti veramente tantissimi infatti in questo periodo, ma l'impaginazione che avete deciso di dare anche con tutti questi movimenti, tutti quanti incasellati in queste finestre, è veramente originale, tecnicamente fatta da Dio e penso con una difficoltà incredibile perché avendone visti tanti, avendo realizzato anche noi alcuni video per delle persone che ci hanno chiesto, è veramente un lavoro difficilissimo. Quindi complimenti.